Paolo Maggi, ingegnere aeronautico, direttore marketing e comunicazione della Buzzi Unice. In dieci parole, il cemento è il più versatile materiale da costruzioni esistente e non solo, sono dieci. Dieci parole sono un po' poche, il cemento è una pietra miliare del Novecento, cioè il Novecento è sostanzialmente il cemento. Perché il cemento? Perché è economico, è resistente, è durabile, è ignifugo, è coibente, è modellabile, è adattabile, è rock. Il cemento è bello, basta pensare al Pantheon, che è calcestruzzo dei romani, gli acquedotti romani, le opere di Calatrava, sono belle, è bello. È un materiale con infinite qualità, proprio dal punto di vista del design.